Il gran caldo non ha impedito di accendere i riflettori sulle strade per il 49esimo Gran Premio Capodarco. Corsa ciclistica internazionale Under-23, che ha visto tagliare il traguardo al Veneto Simone Raccani, seguito a distanza da Andrea Piccolo e Alex Stolio. 160 corridori per 31 squadre su un percorso di 180 km che nella prima parte ha visto i ciclisti impegnati tra la Statale 16 e il lungomare tra Porto San Giorgio e Capodarco. Poi, nel finale, dirigersi nel centro urbano di Capodarco per affrontare l'impegnativo muro con pendenza al 18%. Gaetano Gazzoli, patron del Gran Premio, ha puntualizzato che nonostante le restrizioni Covid si sia riusciti a realizzare una manifestazione che vive sulle strade e ha bisogno del calore delle persone. Terminata la gara abbiamo ascoltato l'impressione a caldo del vincitore Simone Raccani. Gli ultimi 150 metri, 100 metri, ho iniziato a crederci perché temevo molto piccolo e lui sul pezzo duro ha attaccato e io ho stretto i denti e ho realizzato gli ultimi 100 metri di poter vincere. Si parte sempre per vincere, dopo quel che viene, viene. Comunque la mentalità mia e della squadra è che si va alle corse per far bene e oggi l'abbiamo dimostrato. I tuoi genitori sono qui? I miei genitori sono a casa e purtroppo abitano molto distante da qui e credo che mi hanno seguito sulla diretta. Numerose le autorità presenti tra cui il prefetto di Fermo Vincenza Filippi, il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro e l'assessore allo sport Alberto Maria Scarfini. Tutto è andato bene, l'organizzazione è andata bene e tanta soddisfazione perché ricominciamo a fare quello che ci piace. Una manifestazione internazionale, lo sport fa traino per gli altri settori e dobbiamo essere grati perché oggi è una giornata importante perché ricominciamo con la manifestazione sportiva che come dicevi tu è anche traino per il turismo per tutto il nostro territorio. Non solo la città di Fermo, non solo la comunità di Capodarco che ringraziamo, ma tutto il Fermano, tutta la regione Marche. Soprattutto è una vetrina anche internazionale. Tantissimi atleti da fuori nazione, bravissimo Caetano Gazzoli, pensate la difficoltà di andare a organizzare questa manifestazione internazionale con le restrizioni Covid, con le difficoltà che ci sono, ma non potevamo fermarci come ieri al Palio dell'Assunta, dovevamo assolutamente far di tutto per ricominciare a fare manifestazione, a fare aggregazione, a fare sport, a fare tradizione, a proporre il nostro stupendo territorio e ci siamo riusciti alla grande. Sei le maglie assegnate, rosa al vincitore, gialla al secondo classificato e arancione per il terzo. La maglia può per il Gran Premio di Montagna, bianca al miglior straniero nell'odene di arrivo e ciclamino per i traguardi volanti.